Ecco finalmente il mio pacco da spello, davvero super veloce, per fortuna perché ero rimasta senza profumo ed ero disperata. Lo avevo acquistato quest'estate nel loro bellissimo negozio che hanno a spello e questa volta l'ho riordinato su internet. Ecco questo qui è il mio balconi fioriti, ci sono anche tutte quante le cartoline di spello con l'infiorata, la fioritura e la raccolta. E qui ecco il mio profumo, ha anche la boccettina davvero bellissima. Fantastico, davvero fantastico.